Se il Foggia in classifica viaggia al momento e speriamo ancora per poco in zona play-out, per ciò che concerne i tifosi al seguito in trasferta, la formazione rossonera è saldamente in zona play-off anche ad Empoli e possiamo ben dire come sempre il Foggia avrà tanti sostenitori al seguito. Per la trasferta a Empolese i biglietti a disposizione di supporto al rosso-neri, mille nella circostanza sono andati a ruba e la vendita dei tagliandi per aver titolo ad essere su risparti domenica al Castellani per seguire la pattura di Mister Stroppa contro la Forte con pagine toscana resta aperta senza limitazioni di settore fino alle 19 di sabato anche per i non possessori di Fidelity Card e tessera del tifoso. Ieri intanto Vincenzino Sarno Fuorirosa per scelta tecnica è tornato a far capolino via social postando su Instagram la foto della sua videochiamata su FaceTime con Roberto De Zerbi considerato dallo scugnizzo di Secondigliano un uomo vero.